Rubavano i gioielli e i pazienti appena deceduti, anche la collana del rosario. Strappavano dalle salme, in un'occasione addirittura da un feto, i talloncini identificativi per poter rintracciare i parenti dei defunti ai quali proporre il servizio di onoranze funebri e battere sul tempo la concorrenza. Tutto questo avveniva all'ospedale Gravine San Pietro di Caltagirone attraverso una vera e propria occupazione della struttura sanitaria con il personale minacciato di morte e aggredito fisicamente. E' così scattata l'indagine dei carabinieri di Catania che hanno arrestato nove persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere e finalizzata la commissione dei reati di illecita concorrenza con minaccio-violenza, violazioni di sepolcro, furti aggravati, rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio, minaccia, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, nonché di minaccia pubblico ufficiale e stiegazione alla corruzione, nome in codice del Blitz Requiem. Per accaparrarsi all'esecuzione dei servizi funebri, gli arrestati presidiavano fisicamente anche di notte l'ospedale compiendo innumerevoli ingressi abusivi all'interno delle sale mortuarie. Danneggiavano e distruggevano gli arredi funerari delle ditte concorrenti, venivano colpiti sistematicamente i biglietti pubblicitari, i necrologi e i crocifissi posti ad ornamento. A coordinare le indagini, la procura di Caltagirone.